Continuiamo con i poliadotti, con le fibre da poliaddizione e trattiamo le fibre poliviniliche. Le fibre poliviniliche sono dei polimeri ottenuti da monomeri, a loro volta derivanti dall'etilene. Ricordiamo l'etilene come è fatto, carbonio, doppio legame carbonio e a ciascun carbonio sono legati due idrogeni. I monomeri da cui si parte per ottenere le fibre poliviniliche sono costituiti da un gruppo in cui un idrogeno dell'etilene è stato sostituito da un altro atomo. Vedete il gruppo vinilico come è fatto, carbonio, doppio legame carbonio, ad uno dei carboni sono legati due idrogeni, all'altro carbonio è legato un idrogeno ed un altro atomo in sostituzione dell'idrogeno. Vedete qui uno schema molto complesso, le fibre e i materiali polivinilici sono tanti, ma noi ci concentreremo sulle fibre ottenute dal monomero chiamato cloruro di vinile. Come è fatto il cloruro di vinile? Qui in rosso, carbonio, doppio legame carbonio, ad un atomo di carbonio abbiamo legati due idrogeni, all'altro atomo di carbonio abbiamo legato un idrogeno e un atomo di cloro. Dal cloruro di vinile è possibile ottenere diverse fibre. E' possibile per polimerizzazione di questo monomero, per omopolimerizzazione, ottenere il polivinil cloruro, PVC. Da questo polimero, il polivinil cloruro, si ottengono due fibre chiamate movil e leavin. Se invece facciamo copolimerizzare il cloruro di vinile insieme ad altri monomeri, otteniamo altre fibre. Vediamo, il cloruro di vinile può copolimerizzare con il cloruro di vinilidene. Come è fatto? Carbonio, doppio legame carbonio, ad uno degli atomi di carbonio sono legati due idrogeni, all'altro atomo di carbonio due atomi di cloro. Da questa copolimerizzazione si ottengono due fibre sintetiche chiamate vinion e saran. Per copolimerizzazione invece con l'acrilonitrile, che è un monomero fatto in questo modo, carbonio, doppio legame carbonio. A un carbonio sono legati due idrogeni, all'altro carbonio è legato un idrogeno e un gruppo chiamato ciano, il gruppo Cn, carbonio azoto Cn. Questo è chiamato acrilonitrile. Quindi per copolimerizzazione con l'acrilonitrile si ottiene un'altra fibra che è chiamata vinion N. Queste fibre hanno tutte la caratteristica di essere idrorepellenti e una caratteristica molto importante è quella di essere ignifughe, a differenza di altre fibre sintetiche che bruciano facilmente. Le fibre polivinili, derivanti dal cloruro di vinile, in virtù della presenza del cloro, risultano ignifughe. Riallacciandoci allo schema della slide precedente, quindi abbiamo detto dalla polimerizzazione del cloruro di vinile, si ottiene il polivinil cloruro, PVC. La reazione è la seguente. Il monomero carbonio doppio legame carbonio con un cloro legato ad uno degli atomi di carbonio, il vinil cloruro o cloruro di vinile, polimerizza a darci il polivinil cloruro che, come vedete, ha questa unità ripetitiva in cui abbiamo un legame singolo carbonio-carbonio, su uno degli atomi di carbonio abbiamo legati due idrogeni, e sull'altro chiaramente abbiamo un idrogeno e un cloro, il doppio legame ovviamente non c'è più perché gli elettroni sono stati utilizzati per il concatenamento. Ovviamente tutto questo gruppo ripetitivo, questa unità ripetitiva, si ripete n volte. A livello industriale, il polivinil cloruro viene ottenuto mediante polimerizzazione in blocco, dalla quale si ottiene una polvere bianca, amorfa e termoplastica. Questa polvere viene successivamente sciolta in un solvente chiamato acetone e quindi sottoposta al trattamento di estrusione a secco oppure ad umido e quindi trasformato in filamenti attraverso il passaggio tra le filiere. In questa slide vediamo le più note fibre che è possibile ottenere dal polivinil cloruro. Abbiamo il Movil N, che è una fibra molto sottile, con un titolo compreso tra 1,7 e 3 denari, bianca, soffice, leggera, con un basso peso specifico e con un'ottima resistenza agli agenti chimici. presenta il difetto di avere una scarsa resistenza al calore. Già a 85 gradi centigradi ramollisce e a 65 gradi centigradi in acqua si accorcia. Di conseguenza questa fibra va ovviamente lavata a freddo e bisogna usare molte cautele nello stiro. Proprio per oltrepassare questa problematica è stato creato il Movil T. Il Movil T viene ottenuto sottoponendo il filamento a una forte fase di stiro e di stabilizzazione per riscaldamento a 100 gradi centigradi. In questo modo si ottiene un filamento che è in grado di mantenere una certa stabilità dimensionale anche ad alte temperature. Si tratta tuttavia di una fibra più rigida rispetto al Movil N e dal titolo meno fine. Per utilizzo di catalizzatori stereospecifici, quindi attraverso una sintesi stereospecifica, è possibile ottenere il Leavin, che è una fibra che presenta una struttura molecolare sindiotattica, quindi con gli atomi di cloro legati alla catena principale disposti in maniera regolare, uno sopra e in maniera alternata uno sopra e uno sotto rispetto al piano della catena di atomi di carbonio. Chiaramente è una fibra che ha una struttura altamente cristallina, è una fibra più tenace e più resistente alle alte temperature, meno resistente invece alle flessioni ripetute. Tutte queste fibre derivanti dal polivinil cloruro sono non igroscopiche, non hanno nessuna affinità per l'acqua e di conseguenza è difficile far sì che assorbano i normali coloranti. Per tingere queste fibre bisogna ricorrere o alla tintura in massa, quindi l'utilizzo di coloranti dispersi, oppure bisogna ricorrere all'utilizzo di prodotti in grado di rigonfiare la fibra in maniera tale da permettere al colorante di inserirsi all'interno della fibra e legarsi ad essa. In questa slide vediamo invece le due fibre che si ottengono dalla copolimerizzazione del cloruro di vinile con il cloruro di vinildene, che sono il vinion, in cui abbiamo una percentuale di cloruro di vinile dell'85% e un 15% di cloruro di vinildene. Nel saran invece il cloruro di vinile è presente in una percentuale pari al 20%, mentre il cloruro di vinilidene è più abbondante l'80%. Si tratta di due fibre che hanno caratteristiche simili al Movil e al microscopio sono facilmente riconoscibili per la loro sezione che presenta questa strozzatura, questa schiacciatura nel mezzo. Vedete, hanno questa sezione allungata con questa strozzatura nel mezzo. Infine qui vediamo il vinion nitrile, chiamato anche vinion N, che si ottiene per copolimerizzazione del cloruro di vinile con l'acrilonitrile. Vedete l'unità ripetitiva del copolimero che otteniamo. abbiamo il CH2CHCl che deriva dal cloruro di vinile che si ripeterà un numero X di volte e l'altra parte derivante dall'altro monomero CH2CHCN tra parentesi tonde che si ripete un numero Y di volte. Il tutto tra parentesi quadre che si ripete N volte. Vedete chiaramente è un copolimero derivante da due monomeri differenti. L'abbondanza dei due monomeri può variare. In genere abbiamo un 65% di cloruro di vinile e un 35% di acrilonitrile. Il vinion N ha la caratteristica di avere una maggiore resistenza alle alte temperature rispetto al vinio normale. Inoltre non brucia, non produce fiamma, carbonizza senza produrre fiamma e di conseguenza viene utilizzato molto per produrre abbigliamento di sicurezza. Terminate le fibre poliviniliche veniamo agli acrilici, alle fibre acriliche. Le fibre acriliche sono ottenute da monomeri derivanti dall'acido acrilico. In particolare noi andremo a vedere le fibre ottenute dall'acrilonitrile che già abbiamo incontrato nelle slide precedenti come nella copolimerizzazione con il cloruro di vinile. Vedete l'acrilonitrile, carbonio a doppio legame carbonio e ad uno degli atomi di carbonio è legato questo gruppo Cn. Dall'acrilonitrile è possibile ottenere le fibre acriliche in cui la percentuale dell'acrilonitrile è superiore all'85% e le fibre modacriliche, fibre in cui l'acrilonitrile viene fatto copolimerizzare con altri monomeri e in cui la sua percentuale è inferiore all'85%. Cominciamo col poliacrilonitrile che si ottiene per polimerizzazione dell'acrilonitrile. Vedete le reazioni di polimerizzazione, acrilonitrile che polimerizza e mi dà questa unità ripetitiva carbonio legame singolo carbonio, ad un atomo di carbonio sono legati due idrogeni, all'altro atomo di carbonio è legato un idrogeno e il gruppo Cn, tutto il gruppo si ripete n volte, unità ripetitiva del poliacrilonitrile. Questo polimero si ottiene industrialmente di solito mediante polimerizzazione in soluzione acquosa, successivamente il polimero che via via si forma essendo insolubile precipita sul fondo e mediante filatura a secco si ottiene il filo continuo di poliacrilonitrile, mediante filatura ad umido si ottiene invece il poliacrilonitrile in fiocco e infine si sottopone il tutto ad una fase, il filamento ad una fase di stiro. Le prime fibre acriliche prodotte erano costituite da poliacrilonitrile pura, oggi invece in genere si formano dei copolimeri, si sintetizzano dei copolimeri e vengono definite fibre acriliche, come abbiamo già detto, quelle fibre in cui l'acrilonitrile è presente in una percentuale superiore all'85%. Vengono invece definite fibre modacriliche quelle fibre in cui l'acrilonitrile è presente in una percentuale intorno al 60-50%. La prima fibra acrilica fu prodotta negli anni 40 dalla DuPont denominata col marchio commerciale di Orlon. Era una fibra dotata di alta resistenza meccanica al calore, agli agenti chimici, agli agenti atmosferici e veniva usata in misto con la lana per conferirle una maggiore resistenza. La più nota fra le fibre acriliche in commercio è il leacril, costituito da acrilonitrile e altri monomeri in percentuali inferiori al 15%. È una fibra dotata di alta tenacità, indeformabile, meno elastica rispetto alle fibre viniliche e rispetto alle poliammidi e dotata di una certa igroscopicità. Riguardo al comportamento termico, intorno ai 150 gradi centigradi subisce un ingiallimento e si decompone a temperature superiori ai 220 gradi centigradi. Nei confronti della fiamma prende purtroppo fuoco rapidamente, quindi una fibra facilmente infiammabile, è una fibra che fonde ancora prima di bruciare, nel bruciare emette questo odore caratteristico di plastica bruciata, emette dei vapori alcalini con un pH tra 10 e 11, quindi basico e lascia come residuo una massa fusa oppure una cenere grossolana. Dunque il leacril è una fibra resistente a vari agenti chimici, resistente agli acidi alle basi, resistente ai solventi, tranne alla dimetilformamide in cui si scioglie, resistente ad agenti atmosferici e alla luce e a differenza di altre fibre sintetiche, visto che presenta una certa igroscopicità, è anche facilmente tingibile con vari tipi di coloranti. Venendo alla morfologia, è una fibra soffice e calda, ha un aspetto simile alla lana. Al microscopio è caratterizzata da una conformazione della in sezione differente a seconda del processo mediante il quale è stata ottenuta. Le fibre ottenute mediante un processo a umido hanno questa sezione chiamata kidney section, quindi questa sezione a forma di rene. Le fibre invece ottenute mediante un processo a secco hanno questa sezione dog bone shape, si dice, quindi a forma di osso del cane, quindi questa sezione più appiattita e più allungata con uno schiacciamento mediano. Infine, molto brevemente, qui vediamo alcune delle fibre modacriliche. Abbiamo il Verel, in cui vedete l'acrilonitrile, è presente al 70% ed è presente quest'altro monomero, monomero metacrilammide, al 30%. Poi abbiamo il Dainel, in cui l'acrilonitrile è presente al 40% e abbiamo il vinilcloruro, che già conosciamo, al 60%. E infine il Vignonenne, di cui abbiamo già parlato precedentemente, in cui l'acrilonitrile è presente al 35% e il vinilcloruro al 65%. 6%. 6%.